Non se le mandano a dire Giacomo D'Apollonio e Rita Paola Formichelli dopo il duro confronto in Consiglio Comunale continua il batti e ribatti tra il sindaco di Sernia e la consigliera di minoranza. D'Apollonio sta pensando di ricorrere alle vie legali per le gravi affermazioni fatte dalla Formichelli e quest'ultima replica così. Rispondo che mi auguro che faccia questa querela che lui ha minacciato di fare, però forse è il caso che il sindaco D'Apollonio faccia un pochino chiarezza. Ha detto delle cose, lui assolutamente non vede. Le tasse sono state aumentate, è stato approvato l'aumento delle tariffe pari. Ora se il sindaco non sa la differenza tra tariffe e tasse e che quindi come impattano sulle tasse dei cittadini, non è colpa mia e certo non è una menzogna. Allo stesso modo sui debiti fuori bilancio il sindaco mi sembra veramente confuso, perché è vero che i contenziosi sono cominciati anni prima e non tutti, però una buona amministrazione avrebbe dovuto fare gli accantonamenti e sapere quali erano i contenziosi in corso. La criticità del contenzioso come debito fuori bilancio non l'ha rilevata Rita Formichelli, ma i Revisori dei Conti e questo fin dal 2017. Analogamente quando lui mi accusa di aver detto che è stato fatto un falso in bilancio, anche qui non l'ha detto Rita Formichelli, l'hanno detto i Revisori dei Conti. Quindi vorrei ricordare a tutti i cittadini che abbiamo portato come attivo l'incasso del contratto della G-Mobilità che non è mai stato fatto. Per quanto riguarda poi la cosa più che pare abbia dato fastidio al sindaco degli appalti sotto soglia, il sindaco ha detto che siccome doveva pagare debiti fuori bilancio, di cui questa amministrazione è pienamente responsabile, non ha potuto impiegare 700 mila euro per il bene della città. Io ho semplicemente chiesto al sindaco, diteci cosa avete fatto e quanto avete speso con gli appalti sotto soglia. È giusto che i cittadini sappiano che dei consiglieri hanno chiesto da anni di conoscere l'elenco delle ditte accreditate per la giudicazione di questi appalti sotto soglia. Non abbiamo avuto mai risposte. In particolare il consigliere Fantozzi ha anche richiesto, ha inoltrato questa richiesta alla prefettura. Bene, non abbiamo avuto risposta. Ora, se il sindaco ci querela, magari riusciamo a vedere delle carte che non siamo riusciti a vedere. Vorrei poi sottolineare che il consigliere Fantozzi, così come l'ha sottoscritta, non avendo avuto risposta avremmo ben potuto fare una denuncia per omissioni di atti d'ufficio, ma a noi non interessa fare la denuncia al sindaco. A noi interessava capire se ci fosse trasparenza e se ci fosse correttezza. Questo non c'è stato. Abbiamo soltanto capito questo dall'intervista che ha fatto il sindaco. Non abbiamo bisogno, e Isernia non ha bisogno, di un sindaco per bene. Ha bisogno di un sindaco competente. Perché nelle cose che lui ha detto ha rivelato grande, grandissima incompetenza. Da ultimo, anche la denuncia per qualunia, consiglierei al sindaco di consigliarsi con un buon avvocato. Non c'è calunia se si fanno delle dichiarazioni non davanti all'autorità giudiziaria. Se fa una querela dei toni e del così come amminacciato, forse la calunia la farà lui.